Era l'estate del 2011 quando l'orgoglio dell'aviazione militare italiana, la pattuglia acrobatica nazionale, ha mostrato a migliaia di persone stipate sulla spiaggia della Sassonia di cosa è capace. Una delle pattuglie acrobatiche più ammirate al mondo tornerà a Fano il prossimo 9 agosto, coronando così il sogno di molti appassionati e ammiratori di questi piloti straordinari che la compongono. Un risultato importante per Fano anche dal punto di vista promozionale. È uscito proprio qualche giorno fa il calendario dell'Aeroclub Italia che indica proprio Fano il 9 agosto sarà questo fantastico evento che riempirà i nostri litorali che in realtà è grazie di un lavoro fatto da parte dell'amministrazione comunale in collaborazione con l'Aeroclub di Fano ed un grande rapporto che sia anche con l'Aeroclub Italia che ha fatto sì che le frecce tricolori potessero tornare dopo 9 anni nella città di Fano. Nella riuscita di questo bel risultato una parte sostanziale l'ha avuta l'Aeroclub di Fano che grazie alle sue componenti, molte delle quali ex piloti militari e i buoni rapporti costruiti nel tempo, ha creato le giuste condizioni per riportare la panna nei cieli fanesi. Certamente sì, l'Aeroclub di Fano si è dato da fare molto negli ultimi anni per organizzare eventi, per riallacciare quel rapporto che deve esserci con la comunità della città e questo ha portato anche a farci conoscere attraverso l'autonautica militare in modo di avere un rapporto di mutuo scambio, di esperienze, di condivisione della nostra passione. La nostra amicizia con il capo di Stato Maggiore, il generale Rosso, ha contribuito a far sì che poi riuscissimo a portare la pattuglia acrobatica di nuovo nei cieli di Fano. Il programma si sa? Faranno la loro classica esibizione? C'è qualche anticipazione che possiamo dare? Un'anticipazione sul loro programma no, perché dipenderà dalle condizioni meteorologiche, dal vento. Presumibilmente il 9 agosto dovrebbe essere possibile eseguire tutto il programma, sarà sulla battigia del mare, quindi la gente potrà goderselo asseppandosi lungo la spiaggia della Sassonia, quindi sarà un bello spettacolo. Per quanto riguarda altre partecipazioni, contiamo di portare qualche macchina speciale dell'aeronautica militare, non da ultimo il grande elicottero che provvede alla sicurezza di tutti noi quando ci troviamo in difficoltà, cioè con gli elicotteri che sono basati a Cervia, in Romagna, e che provvedono al salvataggio, alla ricerca di persone disperse o da soccorrere.